ciao ragazzi e bentornati sul canale io sono messi 81 con noi oggi c'è fresh 77 a tutti ragazzi bentornati allora siamo qui di nuovo dopo la brutta figura della puntata scorsa con fortnite gioco che ricordiamo è gratuito quindi quando meno in parte ma scaricato perché un bel passatempo sei d'accordo è molto appassionante diciamo soprattutto se riesci all'inizio a prendere soprattutto se riesci ad andare avanti cosa che noi ancora non abbiamo fatto che ti permette di decidere qualcuno ecco esatto e in quel caso poi diventa molto appassionante perché c'è una certa adrenalina dovuto al fatto di stare nascosto non morire a spostarsi nelle varie zone infatti infatti soprattutto è gratis e quindi già è un punto a favore di questo gioco infatti comunque è un ottimo passatempo niente io dovrei iniziare e ci vediamo sul campo di battaglia allora adesso dobbiamo decidere dove andare perché la scelta iniziale è fondamentale tomato town dove 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 tomato town va bene allora ci buttiamo praticamente dobbiamo arrivare più o meno uguale perché non ci avremo mai sì ma c'è la burger king la specie di negozio di panini cerchiamo di andare lì riesci no ci sono già c'è gente c'è gente c'è gente andiamo su quella collina sulla collina al fianco ci sono queste due case così siamo pure dall'alto e vediamo due case ducata vecchia allora qua c'è una pistola verde io ho trovato qualcosina di interessante c'è un mitra ok ok cerchiamo ma ti ricordi mi ricordi come ci si abbassa che non mi ricordo l l1 a l1 ecco ecco ok aspetta qua c'era uno vogliamo reggirare si restringerà la zona siamo ci sono giusto accendi vabbè perfetto allora scendiamo la sotto scendiamo sotto ti sto seguendo se riesco a correre ok dove siamo faccio uno faccio uno ma che bella arma che c'ho allora il fucile d'assalto me lo sono preso io hai fatto bene e tu dai un mitra va bene possiamo andiamo è già il primo ho fatto una bella fine anche se penso che forse lui già era stato qua da questo lato non c'è niente niente però non andare di là perché c'era troppo gente andiamo dall'altra parte che quello scappava da qualcosa sicuramente il problema è che siamo a 100 quindi in ogni caso verranno loro da noi o andiamo su ste monde vediamo cosa c'è là sopra aspetta costruiamo così saliamo prima aspetta aspetta andiamo di qua non a fai fai perché fai il re vuoi essere da lato no vabbè andiamo da lato eh sì mi ricordo si stia attento se c'è qualcuno si 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 non vorrei che facciamo una brutta figlia no facciamo ah sei tu che corre ok occhio c'è una bella centrale qua non c'è niente speriamo in breve ma c'è tipo un tesoro qua vicino io sento un tesoro ma è tipo sul camion no vabbè andiamo andiamo da qua aspetta è dentro il camion oh oh viene qua viene qua però comodo dentro il camion viene qua di qualche roba arrivo c'è un altro fucile d'assalto siamo invece a salire dai dietro prendetelo ok perfetto vuol dire che qua non c'è stato nessuno andiamoci in una di queste case guarda che ti seguo occhio all'aria che si restringe questa non è una casa bene ok qua c'è lo scudo ottimo aspetta che mi prendo lo scudo va bene va bene controllo la sotto c'è qualcosa vieni 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 qua c'è tipo armi qua vabbè munizioni magari possono servire qua non c'è più niente guarda che dove sei? andiamo sotto arrivo andiamo siamo ancora al centro quindi possiamo camberare un po' occhio dove sei sotto? si vai piano vai piano fammi sentire se ci sto sentendo rumore aspetta guarda la sopra guarda la sopra guarda cosa c'è qua sopra costruisci uuuu bravo lo sto costruendo io bello fucile blu occhio occhio via 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 orta puttana mi hanno quasi ammazzato dove sei io? aspetta che mai ci tiro una bomba io potrei ci posso finire però aspetta allora sei no ha detto ha detto ha detto si è ammazzata si è ammazzata si è ammazzata vai poi dovresti stare a compagno di scuola dai mi viola ok perfetto prendete quella che ti serve prendete l'arma viola funzione ok ma è più forte quella blu o quella viola? c'è gente c'è gente c'è gente là sopra allora fammi salire fammi salire stanno arrivando beh guarda scappa 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 stanno arrivando sali qua solo perchè qua non possono salire come no? no possono salire dalla ma li vediamo nel senso ma quando ne effettiamo a parte che io c'ho le bombe se salgono fanno una brutta fine non buttare le bombe per adesso no la sotto se appena arriva qualcuno ok mettiamo io c'ho un mitra di Omar eh pure io ma la sotto abbiamo lasciato qualcosa di blu? può essere? non lo so ci stanno sparando ma dove si è finito? ma andiamoceno allora aspetta aspetta guardiamo la mappa qui allora io dico guarda dove siamo siamo perfetti aspettiamo 20 secondi si e poi ci spostiamo quando tutte si spostano diciamo sei tu che ti stai muovendo? si anche perchè sto cercando di capire se sento qualcuno ma non sento nessuno eh eh appunto se stiamo un attimo fermi così lo capisco ok siamo pure allora aspetta 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 quando abbiamo tutto il tempo per allora tanto non è difficile ok c'è qualcuno ok 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 hai sparato il luo? si ma chi c'era? c'era uno vieni vieni è andato là sopra stai 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 ma chiamando mi lascia un po' e poi devi tornare lì dopo hai lasciato un'arma viola eh infatti aspetta ho visto ha visto io quando mi sono in giro era solo comunque questo meno male dai 3 secondi comunque però un'arma pazzista ne ha ninguém caso quando vado a prendere l'arma viola perché una cazzочка di vecchie poi ok ho lasciato una viola vabbè io dovrei andare da qua dobbiamo andare per entrare ok dovrei andare lì ok che culo siamo anche dentro la prossima zona stiamo attendo che cazzo è? labirinto come senti? non lo so infatti io questo qua da qua senti tipo un labirinto infatti ok qua ci voleva un bel fusile a pombo però siamo usciti dalla zona siamo usciti no? allora rientriamo aspetta aspetta allora dobbiamo entrare nell'aria vieni a sinistra qua che c'è qualcosa no? da qua poi da qua ci basta che ci fermiamo poi siamo dentro stiamo dentro fatto cosa io milo fa ci voleva tipo alla pembo olce all'altra Allora siamo rimasti in 9, tu quindi non hai ammazzati? 2 mi sa, 2, 3 1 Sì, non è stante Sei tu che ti stai muovendo eh? Sì Guarda cosa c'è, spunto dalla strada da lì Sì, spunto dove eravamo prima, andiamo via da qua, qua siamo troppo chiusi No, no, che stiamo dentro, rimaniamo qua fermo Tu dici? Bello che guardo da questa parte Spunto dove siamo nella mappa, scusa, tanto vabbè sta metto indietro, aspettiamo 38 secondi Anzi, io mi costruivo con una bella cosa di acciaio qua davanti, quasi quasi E costruisci, io ne farei un'altra qua No, cazzo, ho spondato però Basta, non fare niente Ok, dai Cosa l'ha fatta di legno eh? Vabbè, se vediamo che qualcuno la s... Qua si restringe Ok, guarda qua qua Ma guarda dove siamo rimasti Da dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare di là Da dove? Da questa parte? Da dove? No, da qua Da qua non si può andare, no No, dobbiamo andare per f... Vabbè sfonda con quell'altra cosa... No, aspetta, aspetta Abbiamo rimasti in 8 Da qua, da qua dobbiamo andare Da qua, dritto davanti a noi Aspetta però con gamba, tanto abbiamo un minuto Firmiamoci qua e vediamo se avvicina qualcuno Ma che da dietro ci sfonda qualcuno Tanto qua già siamo dentro Infatti sto guardando Vieni qua, vieni qua dove sono io che c'è una casa Arrivo Vieni, vieni In 7 siamo rimasti Ma è piccolissimo qua però Infatti io dovrei mettiamocene nella casa Ah, occhio, occhio che là c'è il camper E la casa è fuori, no? No, vabbè andando un po' Shhh Calma tanto Non ti mettere là Allora, io prima è qua andando Occhio, lo stanno sparando Dove ti sei messo? Puoi? Sì, ma lo stanno sparando a me Andiamo all'altra Sì, però così è stato un po' visibile Andiamo all'altra gara Nell'altra gara C'è un'altra gara Occhio, occhio sui Occhio che c'è una montagna di sogni Bisogna, eh? Sì, l'ho visto C'è uno che ha un cecchino Infatti c'è uno la sopra Occhio Occhio che c'è uno Occhio, due sono Levate, levate, levate Vieni dove sono io Fermo Mettete qua Nasconde La sopra, sulla montagna Ecco C'hanno visto Mi hai visto Ma hai visto con cosa ci hanno sparato? Beh, vai No, la so, la so, la so Non ho messo Non ho messo Mi hanno ucciso Occhio M'hanno sceso Occhio Non ci andare, non ci andare Occhio No, no, certo che hanno ucciso Lasciala stare Ma che c***o Con cosa hanno spedito? Hanno sparato Ma hai visto? Alla fine mi hanno eliminato con il cecchino Infatti ho sbagliato io a muovermi Allora se vengono verso di qua io scappo Occhio c'è qualcuno sulla Infatti tu vattene ora Ti nasconde bravo qua sotto Occhio Maria che cosa è arrivato Occhio che c'è uno Due